Ciao ragazzi sono Kernan, benvenuti su Execo Ufficial per questo nuovo video, ma prima di tutto, prima di iniziare, volevo ringraziarvi a nome di tutta quanta la Multigaming per il supporto che ci date per questo traguardo che abbiamo raggiunto su YouTube dei 10.000 iscritti che magari non sarà un numero così stratosferico ma per noi rappresenta tantissimo. E questo ripeto ragazzi è merito vostro, che avete ancora voglia di farvi intrattenere dai nostri video. Adesso spero che non sia una cosa legata solamente a Battlefield, io l'adoro, ma insomma ho visto, come ho già detto, COD a Colonia, secondo me se sarà ottimizzato il PC sarà una figata, io sarò ben contento di trattarlo insieme ai miei teammate. Ecco, poi ovviamente sarà il tempo a dirci se sarà figo o meno, tanto se sarà un gioco e spacca e piacerà a tanti, non solo a me, saremo tutti fici e contenti. Se farà schifo come Ghost non lo tratteremo e quindi non ci sono problemi, ovviamente ci sono anche video di Counter-Strike. Seguirà uno speciale, un video speciale per i 10.000 iscritti in cui voi sarete i protagonisti. Dice Gernan, che stai a dire? Come faccio a essere protagonista? Io lo so, uno dei 10.000, uno dei 5.000, tu mi metti. Beh, magari non parteciperanno tutti però, sì, sarete voi i protagonisti, cioè molto più di me. Cioè io probabilmente farò da, forse da spettatore, non lo so. Magari vi ho fatto capire qualcosa ma non vi anticipo nient'altro perché questa idea è ancora in fase di elaborazione, quindi pensateci sopra. Però comunque sia, sì, sarà uno speciale molto diverso, un video inedito per il nostro canale che non abbiamo mai fatto. Arrivando invece al video di oggi, come promesso nella review dello Strix Claw, il mouse che sto utilizzando oramai da 10 giorni, vi ho portato un video con handcam, ecco che questo se dice, non se dice handcam. E vabbè, ci sarà la facecam e poi la handcam, chi se ne frega se l'ho coniato io, qual è il problema? Ho già coniato bfisti, posso pure coniare un'altra cosa. No, scherzi a parte, il video si articola così, come potete vedere già c'è una mappa sotto che è Goalmood, non sono riuscito a trovare un server con 1000 ticket, ve lo dico, quindi c'era un server becero da 100 ticket. Ho dovuto fare 3 mappe, vabbè, vi vedete come mi muovo in 3 mappe e vedete anche come utilizzo 3 armi diverse perché ho messo lo scaracca, lae e l'ace nell'ultima partita. Ho giocato Goalmood, Operazione Prigione e Shanghai, quindi comunque poi lo vedrete il video, già stiamo a metà, non lo so quanto perché li monto un po' così ogni volta, no? Fai la traccia audio, vedete le clip sotto. E comunque ragazzi vi dicevo, questo mouse è una bomba, non è che vi devo prendere in giro, è una bomba, cioè mi ci trovo benissimo. Poi vi ho detto che sono stragattivo nel giudizione mouse. Ha una forma leggermente diversa rispetto a quello a cui venivo, ma ci ho messo una giornata, quanto, qualche ora ad abituarmi e poi c'è un click sinistro che veramente, lo vedete anche voi dal video e poi lo vedrete nei video successivi perché ragazzi li faccio con questo oramai come il tap firing viene veramente da dio con questo mouse qui. Niente ragazzi, vi lascio al video, ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, guardatelo tutto fino alla fine. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.